Vesco Guerini su BMW 328 del 1939 si sono aggiudicati la 27esima edizione del Gran Premio Nuvolari, rinomata gara di regolarità che rende omaggio all'indimenticato Tazio Nuvolari, facendo competere auto di interesse storico costruite tra il 1919 e il 1972. Tra le tante protagoniste una Lancia Aurelia B20 GT certificata da Lancia Classiche portata da FCA Heritage per celebrare la prima edizione storica del Gran Premio vinta dalla Lancia con una D24 nel 1954. Alla guida della splendida Aurelia B20 GT, Roberto Giolito, responsabile di FCA Heritage, accompagnato dal navigatore Daniele Audetto.